Ciao ragazzi, sono Davide, il presidente del Rotaract di Noale. Siamo qui stasera per effettuare l'estrazione tra coloro che hanno partecipato su Facebook al nostro concorso per il nuovo logo del Rotaract di Noale. Il fortunato vincitore vince un invito da parte del nostro club nonché un nostro gagliardetto che abbiamo appena fatto stampare. Chiara, prego, effettua l'estrazione. Vado. Allora, la persona che vince è Nicole Niki Matteoni. Ti arriverà in qualche maniera il nostro gagliardetto e un invito al nostro prossimo evento. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.